Riduzione per le giovani coppie appena sposate della durata di tre anni, purché abbiano fino a 35 anni. Riduzione per i primi tre anni sulle tassi di rifiuti, riduzioni per le nuove partite IVA per sostenere lo start-up per le imprese e detrazioni anche per chi assume a tempo indeterminato il proprio personale. E ancora nelle categorie più in difficoltà come le famiglie che abbiano come unico reddito la cassa integrazione o che siano in mobilità o peggio ancora per i disoccupati e soprattutto riduzioni per chi abbia perso il lavoro negli ultimi tre anni. Si va dal 50 al 70%. Abbiamo appunto fatto una scelta molto forte di premiare alcune categorie che secondo noi sono molto svantaggiate o meglio devono essere tutelate in questo percorso. Partiamo con le giovani coppie che avranno per i primi tre anni di matrimonio la possibilità di avere un fortissimo sconto sulla tassa di rifiuti, poi le start-up, quindi appunto le nuove imprese, appunto Pescara è una città che ha una forte percentuale di nascita di nuove imprese anche perché manca il lavoro appunto dipendente e all'interno di questa agevolazione introduciamo una successiva agevolazione per chi tra queste start-up assume a tempo indeterminato il personale, quindi c'è una scelta ulteriore verso la stabilizzazione appunto del personale. E poi uno sguardo al sociale, si guarda la dipendenza patologica da gioco, spazio anche ai cittadini che collaborano attivamente allo smaltimento dei rifiuti per propria iniziativa. Persone che avvino attività di compostaggio avranno diritto a riduzioni e attività che producano rifiuti speciali e abbiano provveduto a smaltire per conto loro con la spesa del caso, ci saranno ancora sgravi fiscali. Inoltre confermiamo un'agevolazione che era già prevista come altre dentro il regolamento precedente che è quella di premiare appunto i tabaccai o i bar che scelgono di rimuovere le slot machine. Questo perché sicuramente la ludopatia è uno dei problemi che spinge di più verso la povertà e quindi abbiamo preferito mantenere questa agevolazione come segnale importante di attenzione verso questo aspetto.